Buongiorno! Allora, queste proposte per il sociale della nostra azienda? Proporrei il salvataggio delle balene nell'Artico. E se invece investissimo nel pulire gli oceani dalla plastica? Qualcosa di più sostenibile. Incentiviamo l'uso delle biciclette. Ma lo stanno già facendo? Ci sarebbe la questione della foresta amazonica. Strutture per anziani? Allora per disabili? No. Per riqualificazione del parco cittadino? E se andassimo tutti a donare il sangue? Doniamo il sangue. Fa bene all'intera società. L'ASL di Teramo vi ricorda che donare il sangue fa bene a chi riceve e a chi dona. Doniamo sempre. Possiamo farlo giornalmente nei quattro ospedali, grazie anche alla collaborazione delle associazioni. Grazie.